Perché ogni giorno sia 23 maggio, di ricordo e di memoria con Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, ricordo e memoria, con gratitudine e ammirazione per Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e con loro un grazie e un'ammirazione grande alla Polizia di Stato, a tutte le forze dell'Ordine e in particolare in questo momento all'ufficio scorte della Questura di Palermo e con loro la squadra mobile, tutti coloro che sono impegnati ogni giorno assieme con la indimenticabile squadra catturandi per contrastare la mafia e il suo sistema di potere politico affaristico e criminale. La città di Palermo, i cittadini di Palermo, la città di Milano, i cittadini italiani sono oggi uniti in un giorno di memoria, un giorno nel quale esprimiamo gratitudine e ammirazione a chi ha dato la vita per un cammino di liberazione di questo nostro paese. Il sindaco di Milano e il sindaco di Palermo insieme da Palazzo Marino e da Palazzo delle Acquine con un lenzuolo che in qualche modo richiama le migliaia e migliaia di lenzuoli dei balconi dei cittadini di tutto il nostro paese con l'opera di TV Boy per ricordare che dobbiamo raccontare storie e l'arte aiuta a raccontare le storie di uomini che hanno liberato questa nostra città dal governo della mafia. La mafia c'è ancora e questo è il senso inquietante della memoria, la mafia c'è ancora ma non governa questa città. Dobbiamo rispettare questo impegno, questo sacrificio di questi uomini coraggiosi, di questi uomini e donne coraggiose perché dobbiamo evitare che torni a formarsi un blocco sociale che ridia alla mafia come aveva negli anni 80 e nei primi anni 90 il volto delle istituzioni. È una memoria inquietante che ci interna ogni giorno e che ogni giorno sia 23 maggio per tutti.